Sono sceso in campo perché sono innamorato di questa terra, così il candidato presidente per il centro-sinistra alla regione Calabria, Pippo Callipo, a Castrovillari. Stimo molto i calabresi e vorrei fare qualcosa di positivo per cambiare questo sistema, per portarlo ad un sistema che sia a favore della gente e non contrario. La sua idea di Calabria? La mia idea di Calabria? Una Calabria moderna, una Calabria che utilizza tutte le sue risorse, incominciando dai giovani, incominciando dal territorio. Una Calabria che funzioni, una Calabria efficiente, una Calabria che attragga gente dalle altre regioni con un turismo veramente qualificato. Questa è una cosa funzionale, una terra moderna perché noi siamo così, siamo persone intelligenti, persone volenterose, persone congiute, sì, ma sappiamo portare avanti le cose. Quindi credo che ce la possiamo fare. Questo è il momento che i calabresi veramente potrebbero darmi questa fiducia che io chiedo e invertire la parcia e fare questa rivoluzione, io dico rossa. Ho lanciato anche un'altra idea, ma da domani, una rivoluzione rossa nel senso di rossa per la rivoluzione immediata e repentina che ci sarà e soprattutto rossa per il colore dell'amore verso la terra, un colore che esprime proprio questi sentimenti.